Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Besk e vi parla oggi siamo qui su Assetto Corsa sempre sfida da antane abbiamo preso la F138 credo sia la Ferrari del 2013 circuito Enamor del Laguna Seca come sempre un giro di prova e poi faremo due giri due tentativi anche questo video penso sarà breve e niente come ho già detto farà una live antane non so se dopo 5 o 10 video ma naturalmente penso dopo questi 5 anche perché non so se farò solo questa miniserie fra virgolette su Assetto Corsa perché c'era sì in multiplayer ma è un po' un casino è principalmente un gioco multipray ma per il multiplayer con attenzione di fare il fatto il fatto 2 attenzione qui il cavatappi la bellissima curva questo circuito io lo amo mi capirebbe veramente che facessero un gran premio di Formula 1 qui anche se difficilmente ci sarebbero sorpassi però secondo me ha un fascino clamoroso questo circuito mi è sempre piaciuto quando andremo le gare di moto solo per questo circuito nonostante vi dico la verità i circuiti noi fanno veramente pieno comunque 1.45.5 e più il tempo comunque dovrebbe attestare sui tempi di 1.10 penso 1.12 vedremo la macchia comunque è veramente guidabile e niente purtroppo a virgoletta setto corse è un gioco un po' assistante però divertente guillare perché ha una fisica pazzesca secondo me il punto forte di questo gioco è il multiplayer una fisica veramente stupenda però con una moda della carriera purtroppo che secondo me maga però vabbè vediamo il tempo che siamo a cavata qui secondo me abbiamo fatto abbastanza bene ecco qui abbiamo frenato troppo secondo me vediamo questa cuba qui bene ma non benissimo cioè bene ma poteva essere fatto anche qui frenato troppo comunque il primo giro è di prova cioè è un primo tentativo di solito tranne casi rari se non fu nell'ore è il tentativo non è il tentativo giusto secondo giro e la abbiamo possiamo anche rischiare di più leggermente lunghi qui comunque 1.14.9 abbiamo fatto naturalmente Antani farà le stesse modalità quindi per quello detto una live che penso durerà 45 minuti non di più 40 minuti perché io registrati in totale saranno 5 video per mettete in media 7-8 minuti viene su una mezz'oretta bene qui io l'ho anche rischiata l'ho anche rischiata grandissimo rischio lì vediamo vediamo il tempo 1.11.850 ci salutiamo un saluto a tutti da Debex ci becchiamo al prossimo video che sarà la risposta di attenzione un saluto a tutti ciao alla prossima alla prossima